Benvenuti in WIDIBA, la banca che ha cambiato il modo di fare banca. Una banca in grado di unire una piattaforma digitale all'avanguardia a una rete di consulenti finanziari competenti e certificati per chi ha bisogno di un servizio di consulenza nelle scelte di investimento. WIDIBA ha un'offerta a 360 gradi che spazia dai servizi classici di una banca al risparmio amministrato e gestito, dalla gestione patrimoniale alle assicurazioni, dal credito ai servizi fiduciari. WIDIBA è in grado di offrire a tutti i clienti un insieme di prodotti e servizi evoluti. Come una piattaforma a 100% digitale accessibile da computer, mobile e tablet, con tutti i processi interamente paperless, tramite la firma digitale e il riconoscimento via webcam. Un'esperienza sempre personalizzata in cui il cliente può scegliere il numero di conto e la grafica delle proprie carte. E può accedere al proprio conto in totale sicurezza con una password vocale o con l'impronta digitale. Il servizio MyMoney, che dà la possibilità di gestire facilmente le spese quotidiane archiviando scontrini e programmando i risparmi per il prossimo acquisto. E ancora, MoviPay, con cui inviare e ricevere soldi alla velocità di un SMS. Il tutto con una piattaforma intuitiva. Per cercare o fare qualsiasi operazione, basta digitare le prime lettere. E con il servizio WIDI Express, i clienti possono chiudere il loro vecchio conto con tutti i servizi collegati e trasferirli in WIDIBA con un semplice clic. WIDIBA ha un'offerta davvero completa e competitiva sul credito. Con i mutui e prestiti WIDIBA, i clienti sono più vicini ai propri obiettivi. Possono scegliere se acquistare una nuova casa o trasferire il vecchio mutuo con la surroga. Con un processo 100% digitale, un preventivatore online per calcolare la rata più adatta e con supporto del consulente finanziario, dal preventivo fino alla stipula. E per chi desidera un'offerta a tutto tondo, WIDIBA dispone di tutti i servizi necessari per investire, monitorare il proprio portafoglio, fare trading e proteggersi. Oltre ai servizi fiduciari e alle competenze per gestire il passaggio generazionale. Il tutto esclusivamente con il supporto costante dei professionisti della consulenza finanziaria. Con WIDIBA, i clienti hanno a disposizione soluzioni complete per i propri risparmi e i propri investimenti. Possono gestire la liquidità attraverso un'offerta che comprende una linea libera remunerata, senza vincoli né scadenze, trasferimenti periodici e a soglia tra conto corrente e linea libera, un simulatore per calcolare il rendimento. Linee vincolate con scadenze dai 3 ai 24 mesi, con la possibilità di svincolo anche parziale delle somme vincolate. WIDIBA mette a disposizione un catalogo multimarca di oltre 7000 fondi e SICAV con le migliori case di investimento internazionali. L'architettura aperta senza budget di prodotto garantisce l'assenza di conflitti di interesse, con un'offerta esclusiva di piani individuali di risparmio. L'offerta delle gestioni patrimoniali comprende più di 11 asset type, 30 model portfolio in OICR e 35 model portfolio in titoli, una gestione in multi-manager con le migliori case di gestione. Tutto questo per ottenere strategie personalizzate in base ai bisogni del cliente, oltre a una gestione dedicata per la clientela private. WIDIBA offre anche una piattaforma evoluta per il trading, in grado di coprire tutti i principali mercati mondiali negoziabili online, garantendo un prezzo unico semplificato. Permette poi ai clienti l'attivazione del prestito titoli per un extra rendimento sui titoli già in portafoglio. Inoltre, dà la possibilità di accedere alle opportunità del mercato attraverso un motore di ricerca evoluto che facilita l'accesso alle informazioni, impostando anche alert, stop loss e take profit e ordini automatici. WIDIBA garantisce inoltre un accesso semplificato alle principali informazioni sui mercati, grazie a una scheda titolo unica per ciascuno strumento finanziario, grafici interattivi aggiornati con andamento intraday e storico, informazioni su indici, cambi, materie prime, tassi e spread dei principali mercati mondiali, con funzionalità avanzate, e news in tempo reale sui mercati italiani e internazionali, sull'economia e sulla finanza, anche attraverso il notiziario Radio Corr. WIDIBA offre una serie di strumenti innovativi e all'avanguardia con cui monitorare il proprio portafoglio detenuto presso WIDIBA o presso altre banche. Come? Attraverso un portafoglio virtuale, dove monitorare il rendimento, calcolare le performance e importare i dati del portafoglio reale per decidere come ottimizzare il portafoglio con il supporto del consulente. E grazie al portafoglio online, tenere tutto sotto controllo diventa più facile, con una visione completa degli investimenti e con tante altre funzioni. Un accesso diretto alla scheda dello strumento La visualizzazione delle news Un link alla funzione di compravendita e all'apertura del book a 5 livelli La visualizzazione del grafico del titolo o fondo L'impostazione degli alert o degli ordini condizionati E della watch list Attraverso partner qualificati è possibile accedere a un'offerta completa di prodotti assicurativi per soddisfare le diverse esigenze di protezione dei clienti Dalle polizze tradizionali, come polizze rivalutabili e polizze vita alle polizze previdenziali, fino alle polizze unit linked e multiramo con un'offerta dedicata ai fondi pensione aperti e ai piani previdenziali UIDIBA offre anche evoluti servizi fiduciari e di passaggio generazionale Servizi di pianificazione successoria per gestire il passaggio generazionale con soluzioni ottimali Amministrazione fiduciaria per gestire il patrimonio con la massima riservatezza Trust per la protezione dei beni immobili o per la tutela del patrimonio con finalità successorie La consulenza finanziaria riveste un ruolo centrale in UIDIBA UIDIBA è la prima banca in Italia a certificare le competenze dei suoi personal advisor e la piattaforma di consulenza WISE tramite ente terzo, accreditato e indipendente secondo gli standard internazionali UniISO I personal advisor UIDIBA hanno a disposizione una piattaforma fondata su tre componenti Una relazionale, basata su un'organizzazione snella con solo due livelli gerarchici a garanzia di un ascolto costante delle necessità di tutti Una tecnologica, per rendere più efficiente la gestione del lavoro di consulenza quotidiano attraverso processi veloci e paperless anche con l'utilizzo della firma grafometrica Strumenti software e hardware innovativi e funzionali La web collaboration, per gestire l'interazione anche a distanza L'utilizzo di portafogli modello, attraverso i quali calcolare in automatico la migliore allocazione del portafoglio e WISE, con cui ogni consulente finanziario può rispondere alle esigenze più complesse WISE è una piattaforma evoluta di consulenza a 360 gradi integrata con tutti gli strumenti gestionali, con processi automatizzati in grado di realizzare una consulenza globale Dal profiling del cliente all'analisi dei bisogni con report approfonditi al patrimonio presso terzi, fino all'analisi immobiliare con soluzioni di asset allocation automatizzate e portafogli modello un execution hub con tutti gli strumenti per gestire gli ordini con la massima efficienza operativa e in modo automatico oltre all'overview completa sul cliente con un'unica dashboard con alert e report WISE è un grande ecosistema evoluto con un unico obiettivo offrire al consulente la piattaforma più efficace, personalizzata e di supporto al suo lavoro e infine un'offerta distintiva per la crescita economica e professionale attraverso l'architettura aperta in completa assenza di conflitti di interesse la possibilità di gestire gli investimenti in fondi riservata in esclusiva ai consulenti finanziari un'offerta formativa d'eccellenza sui temi della certificazione dei consulenti della consulenza patrimoniale e del personal branding attraverso incontri con professionisti del settore oltre a un sistema di incentivazione premiante Per tutti questi motivi, WIDIBA si è classificata ai PF Awards 2018 come la migliore rete di consulenza finanziaria per le competenze dei propri personal advisor è la dimostrazione che l'ascolto delle persone che da sempre caratterizza la filosofia di WIDIBA significa anche e soprattutto ascolto delle esigenze dei suoi professionisti i personal advisor Cambia il modo di fare consulenza finanziaria diventa un personal advisor WIDIBA WIDIBA No Ordinary Bank 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 Grazie a tutti.